viviamo in una società che ci nasconde sempre tutto ci lamentiamo sempre perché nessuno ci dice mai le cose come stanno per una volta che abbiamo un progetto semplice chiaro su tutto ancora qualcuno di voi fa fatica non capisce ragazzi è semplicissimo c'è un link qua sotto ci cliccate lasciate la vostra email e vi guardate il webinar di un'ora che vi mando se non avete un'ora di tempo non guardateli neanche questi video qua non lasciate email non cominciate niente se poi arrivate ad iniziare vi trovate allo step 1 e ancora mi chiedete cose spiegate benissimo nel webinar o non lo avete guardato tutto o non lo avete proprio visto domande poi del tipo ma quanto spendo alla fine dei tre step no perché per il dominio mi chiedono 12 euro allora se parti così se questa è la tua preoccupazione quanto spendo negli step lascia proprio perdere business box italia lascia proprio perdere il mondo dell'online in generale perché vuol dire che oltre a non avere visto il webinar non hai proprio capito cosa stai facendo qui ci si forma per diventare imprenditori online se ti preoccupano 12 euro per un dominio cosa farai dopo quando dovrai sponsorizzarti ti ricordo che non lo fai per me ok lo fai per te se hai guardato un mio video significa che vuoi guadagnare di più significa che hai voglia di riscattarti di raggiungere la tua libertà finanziaria ma tu veramente colleghi una carta di credito e non sai nemmeno perché cosa sei un pollo da batteria che fai azione perché te l'ho detto io non è un supplizio non è un favore che fai a me te lo ripeto io voglio gente sveglia che riconosca la grande opportunità che mirko ci ha dato voglio gente gratta gente che non veda l'ora di mangiarsi gli step e di accedere ai training gratuiti ok altra domanda frequente ma io ho solo visto i tre step posso accedere lo stesso ai video corsi no fai azione completi tre step e solo dopo solo dopo avrai diritto alla tua formazione gratuita avete idea di cosa vi fanno pagare la fuori percorsi del genere evidentemente no bene allora fatevi un giro e poi forse capirete cosa sia un piccolo investimento per gli strumenti che vi offro 5 euro al giorno trovatemi chi vi offre tutto questo per meno con la stessa qualità e poi ne riparliamo bene guys io con questo vi saluto vi mando un abbraccio da laura ciao